Il consumo è responsabile di sostanze alcoliche e continua ad essere una delle principali cause di incidenti stradali che vedono coinvolti i giovani. Sono loro i destinatari della campagna sulla sicurezza stradale SISaggio Guida Sicuro, che si terrà venerdì 20 e sabato 21 aprile in piazza Plebiscito a partire dalle 10. Giunto alla terza edizione, il progetto è promosso dall'Associazione I Meridiani e mira a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza in strada tra gli studenti delle scuole superiori della campagna. Vanno veicolati dei messaggi di sicurezza e sicuramente il messaggio che noi stiamo portando avanti proprio nei luoghi della movita sul bere consapevole e sul rifiuto della cultura dello sballo in senso lato rappresenta appunto uno dei tasselli che si lega al discorso della Guida Sicura. Con il patrocinio del Comune e dell'Ufficio Scolastico Regionale l'iniziativa si avvale della collaborazione dell'ANAS e dell'Università Federico II e attraverso un concorso a premi vuole sensibilizzare i ragazzi contro l'abuso di alcol e la guida in stato di ebrezza. Come associazione abbiamo messo a disposizione proprio esperti della sicurezza che hanno con filmati, con dei dati alla mano, hanno sensibilizzato i ragazzi proprio alla guida sicura. Per l'occasione sarà coinvolto anche il personale della Polizia e delle altre forze dell'ordine e stand informativi illustreranno agli studenti le attività relative alla sicurezza del veicolo e come tenere un comportamento prudente su strada.